Torna un prato di cioccolato! Tre giorni di eventi golosi in Piazza Duomo dedicati al cioccolato artigianale di qualità. Da venerdì 16 a domenica 18 ottobre, Piazza del Duomo si trasformerà in una vera e propria fabbrica di cioccolato, con stand, laboratori per bambini, lezioni per adulti, show cooking e tanto altro. Cioccolato e solidarietà! Sabato alle 18, durante la realizzazione della tavoletta da Guinness di 30 metri, potrai contribuire a raccogliere fondi destinati ai progetti di Unicef. Grazie a tutti!